Buongiorno, io sono Albi e sono qua con questo piccolo video in cui uso questi fantastici scorpion akimbo in tutti e contro tutti per informarvi di un altro video, ma prima volevo giusto darvi un consiglio su come utilizzare le armi akimbo, dunque il mio consiglio per le armi akimbo è non utilizzatele. Bene, allora, con questo clip vi voglio presentare niente proprio di meno che un'intervista, un'intervista che mi ha fatto DJFeed97, che è anche la stessa persona che ha fatto il background fantastico del mio canale. Bene, lui dovete sapere che probabilmente ve l'avevo già detto anche nel video, il primo video che avevo messo dopo aver utilizzato questo background appunto che amo tantissimo. Bene, lui diciamo che ha un canale in cui tiene interviste, ha fatto anche interviste a Alessa Tate, che probabilmente lo conoscete meglio come Ultralem, e non so se lo conoscete, comunque lui è uno a cui piace fare i mascinima, cosa sono i mascinima? I mascinima sono diciamo dei film, dei miniclip, degli show, anche interi film ci sono, infatti in questo momento sta lavorando ad un intero film utilizzando i videogiochi, e infatti sul suo canale tra l'altro potete trovare anche dei trailer per diciamo il film a cui sta lavorando, che utilizza come gioco un gioco di ruolo online che sinceramente non conosco il nome, sapete io non sono uno che è tanto dentro a queste cose dei mascinima, però se a voi interessano vi consiglio davvero di dare un'occhiata. In ogni caso il link è nella descrizione e nella nota qua, un'intervista, un'intervista a me e un po' di domande se volete conoscermi meglio, ecco, non soltanto per quanto riguarda il canale di Youtube, ma anche entrando un pochino nel personale, ecco. Quindi sì, ecco, date un'occhiata al video e mettete un bel mi piace. Ci sentiamo, ciao, ciao, ciao.